Ciao a tutti, video velocissimo oggi per recuperare il vuoto di questa settimana perché lunedì non ho fatto in tempo, come avete visto, a fare il diciamo solito video però mi sono capitate delle domande o delle questioni e quindi ho voluto fare questo breve video per chiarire alcune cose allora, rinforzo positivo, quindi premio il cavallo quando fa bene qualcosa o sgrido il cavallo quando fa male qualcosa per farmi capire che cosa è più efficace, che cosa funziona, che cosa non fare e anche il premio quando è troppo quindi assolutamente arrabbiarsi col cavallo non porta da nessuna parte, mai in questo probabilmente tanti di voi hanno già fatto l'esperienza perché comunque viene la rabbia certe volte perché soprattutto persone ambiziose che vogliono fare bene le cose ma le cose certi giorni proprio non vogliono venire e uno pensa ma come ieri ci riuscivamo e oggi no cioè poi ci sono anche delle situazioni a volte minime dove proprio uno dice non è il non riuscire a fare delle cose ma di solito vengono meglio e adesso no e sembra che sia tutto in salita e poi si fanno dei passi indietro ma questo è normale, è fisiologico la salita non può mai essere costante c'è sempre un miglioramento, poi si torna un po' indietro poi si sale e avanti così questa è la crescita, funziona così in tutti gli ambiti ma anche nell'equitazione quindi è normale che ci siano dei momenti di frustrazione dove uno si butta giù cioè l'equitazione è proprio uno sport difficile per questo perché non puoi permetterti di non essere presente con la tua testa di pensare ad altri problemi, ad altre cose e di riflettere sul cavallo anche i tuoi problemi esterni cioè bisogna proprio annullare mentalmente tutte le cose, le questioni esterne concentrarsi al 100% su quello e anche rimanere molto zen soprattutto con cavalli estremamente sensibili e difficili è assurdo quanto bisogna riuscire ad autocontrollarsi in questo sport in altri sport, in altre cose puoi permetterti di sclerare a un certo punto con il cavallo non puoi permettertelo, non puoi farlo non è ammesso perché non porta a nulla questo assolutamente sempre al 100% sbagliato arrabbiarsi con il cavallo diverso però dall'essere decisi e anche farsi capire a volte quindi una reazione diciamo chiara di no questo non si fa ci sta quindi incazzarsi in quel senso ok ma allora lo sgridare è più efficace un momento di chiaro no soprattutto da terra se per esempio un cavallo inizia a mordicchiarti o non ti rispetta, ti viene addosso cioè lì ci sta un intervento anche molto chiaro e anche forte il cavallo primo non è un essere piccolo, debole fragile nel senso che non gli fai male tu sei anche lo spintone un po' via e voglia noi siamo comunque ridicoli in confronti alla sua mole e tra di loro i cavalli quando si fanno capire non so se avete mai visto un branco quando litiga, lotta, mette in chiaro le gerarchie non è che ci vanno tanto piano loro tra di loro per farsi capire sono ben chiari quindi va bene essere chiari e decisi ma l'importante è che non centri l'emozione perché l'umano ha questa cosa che gli viene la rabbia l'emozione il cavallo quando è chiaro non lo fa non è che dopo riserva rancori e rimurgina e la volta dopo ma chissà perché questa cosa e si fa un sacco di pari mentali mentre i cavalli tra di loro non sono così sono molto istintivi poi però basta neutri di nuovo così bisogna diventare un po' cavalli per comprenderli quindi la chiarezza ci sta anzi ci deve essere perché altrimenti noi siamo inferiori nella scala gerarchica e anche in sella questa cosa la noteremo perché tanti cavalieri tra l'altro anche professionisti gente così che si fa preparare sempre il cavallo del groom arriva là e monta solo in sella dovrebbero invece prendere il cavallo e longiarlo invece che farlo fare il groom qualche volta lavorare loro da terra anche in libertà e anche comunque avere a che fare con il cavallo da terra per capire qual è la mia situazione il mio rapporto con questo cavallo e come riesco a comunicare con lui col mio linguaggio del corpo perché la stessa quantità di chiarezza e di sicurezza che ho da terra di solito poi me la porto anche in sella quindi se da terra non riesco a comunicare non riesco ad essere chiara non riesco a farmi capire come potrò mai farcela da su con i miei concetti umani che però non funzionano col cavallo più delle volte non mi capisce se io ragiono con la mia testa umana quindi questa è una cosa arrabbiarsi no chiarezza sì premio sempre se fa bene una cosa ma se fa bene una cosa non è solo se facciamo l'esercizio del secolo nuovo che proprio cioè proprio la creme della creme nuova che abbiamo imparato super mega ostacolo superato bravissimo cioè no grandi cose sono sempre costruite da tante piccole cose giornaliere che ogni giorno piccoli successi mini successi quindi fin dall'inizio dobbiamo essere consapevoli quando il cavallo fa una cosa in più della volta prima anche se è ridicola anche se da fuori nessuno la nota ma noi la sappiamo perché la volta prima era meno quel poco più in una cavolata di una transizione di una richiesta quello che è va premiata adesso non dovete esagerare e iniziare mezz'ora a fargli le coccole le cose questo cavallo di nuovo non lo capisce cioè non è funzionale però se noi con una semplice parola un bravo una carezza un qualcosa gli facciamo capire che quella cosa lì andava bene questo sì se lo ricorderà e la volta dopo farà più volentieri di nuovo la stessa cosa perché così gli fate capire la giusta direzione cioè questo sì e questo no glielo faccio capire semplicemente ignorandolo e quindi le due cose lui fa due conti e dice mi conviene fare così allora questa era la direzione giusta perché lì mi arriva la carezza può essere una semplice con la mano interna non dovete neanche staccare le redini finché montate cioè proprio con la mano interna un tocco un mini tocco è già sufficiente il cavallo lo percepisce il cavallo si accorge subito se abbiamo una reazione positiva nei suoi confronti quindi questo è fondamentale attenzione però perché qui adesso mi arrivano i super coccolosi quelli che il cavallo è il mio bambino e gli dico bravo ogni secondo anche questo non ha senso per il cavallo e non funziona cioè non porta a nulla di più anzi mi toglie l'effetto diciamo come si dice l'effetto sorpresa del premio e anche di gratitudine per il premio cioè se io glielo dico sempre bravo 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 ogni due secondi poi non è più bello cioè non più bravo è come se i vostri gignoritori a piccoli vedono la caramella ogni minuto cioè all'inizio bello buono grazie figo dopo un po' basta basta nel senso vabbè dammene un'altra però non è più la stessa cosa ok cioè un premio deve essere un premio zuccherini carote mele non stiamo a esagerare va bene come le corne ogni tanto ma non sempre soprattutto zuccherini pochi perché non fanno bene carote e mele sì ma non sono comode finché si lavora soprattutto quando c'è la testiera non è un gran che anzi è da evitare quindi dicevo ditegli dategli il comando passo trotto soprattutto quando lavorate la corda passo deve partire al passo ma poi non continuate passo 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 ogni metro se no non capisce più cioè non ha più il senso devo partire al passo uguale per il trotto uguale per il galoppo una volta poi casomai glielo ridite se perde l'andatura allora di nuovo il comando ma se no no se no può essere ogni tanto per rinnovare un po' ma anche lì non se no perde tutta quanta l'efficacia uguale per l'intervento della gamba uguale per l'intervento di uno speroncino ogni tocco correttivo se non risponde al polpaccio uguale per il frustino lungo come correzione cioè tutte le cose che vengono poi sfruttate troppo perdono completamente la loro efficacia diventa assurdo la gamba non vi ascolta più non ascolta più la voce non capisce il comando vocale quindi equilibrio tra le cose equilibrio e chiavezza per oggi è tutto ciao ciao grazie a tutti